Musica Dagli arresti domiciliari al divieto di avvicinamento potrà tornare alla vita di sempre ma lontano dalla sua ex. È stato categorico il giudice per le indagini preliminari e tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, che ha firmato l'ordinanza con la quale viene sostituita la misura cautelare per un 54enne dell'Alto Sangro, SF e le sue iniziali, che torna in libertà ma non senza prescrizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Lo stesso non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente, dimora, lavoro, studio, attività ricreative, né potrà intraprendere ogni forma di contatto attraverso qualsiasi mezzo con la parte offesa, con i familiari con essa conviventi, come si legge nel provvedimento. Un passaggio necessario, visti i precedenti che avevano portato lo scorso ottobre i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro a chiedere l'aggravamento della misura cautelare dai domiciliari al carcere, poiché il 54enne avrebbe retirato condotte vessatorie nei confronti della sua ex convivente mediante telefono cellulare in suo possesso. Tutto cominciò la scorsa estate quando i militari della compagnia di Castel di Sangro riuscirono a raccogliere indizi di colpo e volezza in ordine alle ipotesi di maltrattamenti in famiglia. Una vera e propria escalation di condotte vessatorie condite da violenze fisiche e psicologiche a cui sarebbero seguiti atti persecutori che hanno ingenerato nella vittima un grave e perdurante stato d'ansia, timore per la propria incolumità, costringendola a mutare le proprie abitudini di vita. In una circostanza il 54enne tamponò volontariamente con l'auto la moglie tanto da spingere l'attualità giudiziaria a disporre la traduzione in carcere. Da lì l'alternanza delle misure cautelari, dal carcere alla cella domestica, poi ancora carcere e domiciliari. La durata del trattamento cautelare di nove mesi costituisce, secondo il giudice De Marco, un idoneo deterrente rispetto ai suoi futuri comportamenti delittuosi. Da qui la remissione libertà con il divieto di avvicinamento, con l'avvertenza che in caso di nuove violazioni il 54enne tornerà dietro le sbarre. Sarebbero presentato istanza di accesso e finanziamenti per la ristrutturazione di un immobile danneggiato da sisma, pur non possedendo i requisiti necessari. Per un 45enne di Corfinio, un 67enne e un 75enne di Prato La Peligna, è arrivato ieri rinvio a giudizio da parte del giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sulmona, per i fatti che sarebbero stati commessi nel gennaio del 2016 nel centro Peligno di Corfinio. L'accusa in concorso tra loro è di truffa e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, un'ipotesi di reato che ultimamente finisce più spesso sotto la lente della magistratura. Nel caso di specie, i tre imputati, rispettivamente il proprietario dell'immobile in questione, l'ingegnere progettista incaricato per la pelizia giurata, e l'ex responsabile dell'area tecnica del Comune di Corfinio avrebbero rappresentato falsamente l'esistenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo statale per la riparazione e commiglioramento sismico degli immobili danneggiati dal terremoto del 2009, conseguendo un contributo di quasi 56 mila euro. Sostanzialmente, tre avrebbero dichiarato che l'immobile era adibito all'abitazione principale, che all'esito delle ispezioni eseguite e della verifica dello stelo dei luoghi, nell'edificio sussistemano danni riconducibili all'evento sismico del 6 aprile 2009, tant'è che lo stesso necessitava di lavori di rafforzamento strutturale. Circostanza non vera secondo la Procura, poiché, come accertato nel corso delle indagini preliminari, l'immobile non era adibito all'abitazione principale, né sussistevano i requisiti previsti per il legittimo riconoscimento del contributo, poiché le lesioni presenti nella muratura non avevano nulla a che fare con il terremoto. Una svista, ovviamente con tanto di virgolette, costata cara ai tre che dovranno presentarsi davanti al giudice monocratico il prossimo 28 settembre per la prima udienza del processo, assieme agli avvocati Alessandro Margiotta, Vincenzo Margiotta e Michele Quarta, a loro il compito di fare chiarezza sui vari passaggi e di smontare il castello accusatorio. Archiviata la stagione invernale che ha segnato il risveglio post-pandemia, l'Alto Sangro si prepara a quell'estiva e lo fa intensificando, mettendo in rete un'offerta sempre più mirata e dettagliata, grazie al lavoro del gruppo Gall Abruzzo Italico Marketing Turismo, al quale già hanno aderito 62 operatori. Dopo la TV Gall, che ha permesso già quest'inverno di offrire su 100 strutture alberghiere, e sull'impianto e la promozione continua del territorio, grandi novità sono in arrivo sull'asset digitale del gruppo, a partire dalla piattaforma di promozione commerciale, dove non sarà affatto e-commerce, che grazie al Polo di Innovazione per il Turismo sta organizzando la gestione e l'offerta di prenotazioni sul territorio, che conta 454 attività ricettive, di cui 300 tra Alto Sangro e Alto Sagittario, con particolare attenzione al turismo esperienziale, alla profilazione dei flussi turistici. La novità sarà rappresentata da una card che, agganciata dai QR code, permetterà da una parte al turista di collezionare, guidarlo nell'esperienza in natura, dall'altra agli operatori di modulare al meglio l'offerta, a seconda dei gusti degli stessi turisti. Questa soluzione permetterà una migliore integrazione tra le piattaforme di prenotazione regionali e di destinazione già attive nell'area dei Gall, i loro sistemi di booking, di servizi turistici e altri servizi connessi. Nuovo impianto di illuminazione a LED sul territorio comunale di Prezza. Ad oggi sono state già sostituite 200 lampade, passando dalle vecchie lampade a mercurio di sodio da 150 W a lampade lent da 45 W, per un totale di 150.000 euro. I lavori rientrano in un più ampio progetto di interventi di messa in sicurezza, efficientamento del sistema di illuminazione. Entro qualche giorno verranno terminati i lavori su tutta la frazione di Campo di Fano, alcuni rioni di Prezza successivamente saranno estesi in altre zone della cittadina, compresa la zona di rione Colle. Si tratta non solo della sostituzione delle lampade, ma in alcuni casi anche dell'installazione di nuovi impianti e dell'ampliamento di reti già esistenti con il potenziamento della pubblica illuminazione. Con questi interventi, sottolinea il primo cittadino Marianna Scoccia, il consigliere delegato Gianni De Santis, verrà garantita una migliore inviabilità delle zone, sia per la percorribilità delle strade che per la sicurezza dei cittadini, ma soprattutto risparmio per le casse comunali. L'intero progetto prevede la sostituzione di oltre 300 lampade più luce con meno costi. È il caso di dirlo. Torna l'appuntamento con Cantine Aperte, la festa enoturistica più grande d'Europa, ormai alla sua trentesima edizione. Le dati da segnare sul calendario sono sabato 28 e domenica 29 maggio. Sarà un'edizione in presenza, l'insegna dell'accoglienza consapevole e della scoperta dei profumi e dei sapori del territorio. Per la Valle Peligna, la cantina Margiotta di Prato La Peligna aderisce alla Kermesse dedicata all'affascinante mondo del vino. La partecipazione a Cantina Aperte, dichiara l'enologa Francesca Margiotta dell'omonima Cantina, rappresenta una sfida nel rispetto del giusto equilibrio di condivisione, sostenibilità e tradizione. Abbiamo così deciso con entusiasmo di aprire le porte della nostra realtà vitivinicola e offrire un weekend di degustazione e spensieratezza attraverso la valorizzazione della nostra terra, forte e gentile. Per l'occasione la Cantina Margiotta di Prato La Peligna offrirà un'esperienza esclusiva all'interno delle proprie sedi con la degustazione dei vini autottoni e aziendali, visita dei vigneti, della cantina e delle baricaie a cromoterapica. A conclusione della giornata di sabato 28, a partire dalle 20, ci sarà Wine Party. Per il pranzo della domenica è stato organizzato un esclusivo picnic nei filari della vigna per immergersi a 360 gradi nei profumi della primavera. L'ingresso sarà possibile solo su prenotazione per info 349 192 16. È stata inaugurata ieri a Sante Marie la prima area attrezzata abruzzese di sport nei parchi. Sante Marie è la tappa del centro Italia tenuta a battesimo da Angelica Savaryuk, ginnasta di origini ucraine e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 con la nazionale italiana. Durante la manifestazione, i bambini della scuola primaria Lombardo Radici di Sante Marie hanno portato i propri pensieri sui valori che la cultura dello sport deve trasmettere alle nuove generazioni. I piccoli studenti si sono inoltre confrontati nelle loro performance sportive con Angelica tra il verde del Parco del Nonno e gli attrezzi di sport e salute. A partecipare alla manifestazione, il presidente della provincia dell'Aquila e il presidente delle province abruzzesi Angelo Caruso, il direttore Anci Abruzzo Massimo Luciani e il segretario di Sport e Salute Abruzzo Dominico Scognamiglio. Sport e Salute è un progetto molto sentito dai comuni. La relazione di questo progetto con l'Anci ha consentito una grande diffusione, una grande aspettativa e anche una grande riuscita. Speriamo che possano esserci altri finanziamenti di questo tipo perché queste occasioni costruiscono la socialità dei comuni, la socialità sportiva, la socialità del vivere insieme, la capacità di fare in modo che i ragazzi e i cittadini, anche di piccoli paesi come questo, come Santa Maria, possano trovare un'occasione di stare insieme, di stare insieme con qualità, con attrezzature di rilievo importante, di grande qualità e di ottima fattura. Oltre alla linea di intervento 1 che prevede il coinvolgimento di ben 16 comuni della regione Abruzzo, di cui 4 della provincia dell'Aquila, 4 di Teramo, 6 di Chieti e 1 di Pescara, ci sono altri due progetti, sempre di sport nei parchi, della linea di intervento 2 che già sono iniziati e che riguardano il comune di San Salvo in provincia di Chieti e il comune di Penne in provincia di Pescara. È un evento importante, un evento che simboleggia ovviamente l'importanza dello sport, l'importanza anche della fruizione, delle infrastrutture, che hanno ovviamente una missione importante, hanno anche la missione aggregativa, la missione sociale, la missione di far percepire quanto è importante l'attività fisica nella formazione della fase adolescenziale, ma anche nel mantenimento della terza età, quindi insomma una condizione formidabile. Ovviamente parliamo di parchi, dove l'elemento qualità ambiente è un elemento strategico, un elemento fondamentale, ma ovviamente di tutto ciò, soprattutto in una provincia come la nostra, se ne vuole fare una strategia di sviluppo, una strategia attrattiva, soprattutto nel campo del settore turistico, soprattutto per offrire a coloro che visitano i nostri luoghi sempre di più e sempre più alla riscoperta dei piccoli borghi, dei piccoli centri, un qualcosa di importante che ci pone sicuramente nelle condizioni di parità delle località più sblasonate del territorio nazionale. Oggi siamo qui al Parco del Nonno, a Santa Maria, una delle aree attrezzate del progetto Sport nei Parchi, la prima tappa in Abruzzo, una delle tante, tantissime, perché sono ben 480, è una delle palestre a cielo aperto. Questo è un progetto meraviglioso che cerca di abbracciare, di far conoscere, di far amare lo sport a tutti quanti. Quindi mi raccomando, venite e praticate sport. Il burraco è un gioco di carte, una sorta di variante della canasta, forse nato in Uruguay, ma molto diffuso anche in Italia e soprattutto a Sulmona. L'associazione Burraco Club 2011 di Sulmona ha organizzato presso il locale della Gomera un partecipato torneo, denominato Primo Memorial Giuliano Agnetti. Il burraco si gioca con due mazzi di carte francesi con principi di quattro jolly, le stesse usate anche per il poker, il bridge, il ramino, con la sola variante che tutte le carte di valore 2, le cosiddette pinelle del gioco, che sono le matte come i jolly, hanno sotto l'indice un simbolo formato da una stella iscritta in un cerchietto. Dalla versione più diffusa, i quattro giocatori si affrontano in due coppie, altre versioni dipendono dal numero di giocatori. È possibile giocare singolarmente a squadre ed esiste anche una variante del gioco contro i giocatori, dove quindi si usano tre mazzi di carta, anche due. A Sulmona l'iniziativa ha avuto successo, oltre a tanti partecipanti che si sono affrontati nel torneo. Ma il burraco non è un gioco di avversione, anzi, l'iniziativa, come ci ha spiegato il presidente del club Emidio di Cesare, mira invece alla socializzazione, trascorrere in amicizia qualche ora, divertirsi in buona compagnia. L'iniziativa del club rappresenta un vivace momento di ripresa dopo la lunga pausa dovuta alla nota pandemia. Per lei questo è un lavoro, per gli altri forse è un divertimento, ma anche lei gioca al burraco? Sì, io gioco al burraco e mi piace. Non è un lavoro, ma è un divertimento anche per voi, anche per voi organizzatori. Sì, 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 certo, perché altrimenti non sarebbe così bello se non si prende anche con il divertimento, anche se ci diamo da fare, per far sì che vada tutto bene, per il meglio. Comunque dicevamo prima che è un modo per socializzare questo, è un modo per stare insieme, per stare in compagnia dopo le situazioni che abbiamo avuto e che purtroppo abbiamo ancora. È così, d'accordo? Esatto, sono d'accordissimo, sì, perché è un gioco che unisce e che comunque fa passare anche del tempo nel modo giusto. Un importante evento sportivo si tiene a Sulmona nel poligono di tiro in via del Tratturo. Tra un centinaio i partecipanti provenienti dalle sezioni di tiro a segno nazionale di Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Teramo e Sulmona. La gara valevole per la quarta prova della gara regionale federale 2022 si terrà nei giorni 27, 28 e 29 maggio prossimi naturalmente ed è organizzata dalla sezione TSN di Sulmona. Occorre dire subito che la struttura del tiro a segno di Sulmona è molto antica, immersa nel verde, è una delle più importanti e meglio attrezzate della regione Abruzzo. In questi ultimi mesi è stata completamente rinnovata con attrezzature ultramoderne come il conteggio di punteggio con strumentazione elettronica al lettore a fianco del tiratore. Sono tra l'altro installati dei pannelli per ogni linea di tiro in modo da garantire sicurezza ai tiratori a seguito della nota pandemia. Intanto stiamo vedendo immagini di repertorio. La struttura rinnovata la potremo vedere nei prossimi giorni. Ma veniamo sia pure sommariamente a qualche dato tecnico della gara. Specialità a metri 10 partecipano uomini e donne, seniores, juniores, master ed ancora ragazzi, allievi e giovanissimi. Ebbene dite che si può accedere allo sport del tiro a segno a partire dai 10 anni e fino ai 100 anni. Beh, per chi ci arriva. Dirigenti e soci della sezione sono intanto al lavoro per garantire il successo della manifestazione sportiva. Ovvio dire che si prendono tutte le misure necessarie per evitare contagi dovuti alla pandemia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.